Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come fare questa sfida, dimostra il tuo valore raccogliendo il martello di Thor. Lo chiamo martello perché non so pronunciarlo. Praticamente dovete raggiungere qui, questo punto qua, non potete sbagliarvi, a Borgo Bislacco, appena ci arrivo a Terro, e dovete interagire con il martello di Thor nei panni di Thor. Quindi appena avete ottenuto Thor acquistando il pass battaglia ed avete completato le varie sfide, appena vi spunta fuori questa sfida, tutto quello che dovete fare è atterrare qui, in questo cratere, e interagire con il martello di Thor. Potete farlo in qualsiasi modalità, credo. Non ho provato Rissa Squadre, quindi non vi do la certezza al 100%, ma se giocate in modalità singola potete farla senza problemi. Quindi atterrate qui, nei panni di Thor, mi raccomando, non con un altro personaggio, altrimenti la sfida non va bene, e interagite con il martello di Thor che trovate al centro del cratere. Quindi vi avvicinate e raccogliete. Voilà, il gioco è fatto!